sospesi dal servizio. Generale Nistri, l'inchiesta di Piacenza ha evidenziato reati che se accertati suscitano impressione nell'opinione pubblica. Vero, i reati ipotizzati sono gravissimi e per questo motivo procederemo con il massimo rigore, avendo sospeso tutto il personale coinvolto, proseguiremo sempre con la massima severità per l'accertamento in via autonoma disciplinare della posizione dei singoli. Sin da questa sera a Piacenza i cittadini troveranno una stazione mobile al posto della caserma per il momento chiusa e da domani troveranno anche il nuovo comandante della compagnia. Lo Stato non si ferma. Lei non pensa che in qualche modo questi episodi possano intaccare la fiducia nell'arma dei carabinieri? Certo, episodi come questi possono intaccare la fiducia nell'arma, ma io devo parlare a tutela dei 100.000 carabinieri che ogni giorno e ogni notte sul territorio esprudono il loro dovere al meglio delle loro possibilità. Solo quest'anno noi abbiamo avuto oltre 1.000 feriti. Durante i momenti peggiori del lockdown non abbiamo chiuso caserme, abbiamo avuto 800 contagiati e 10 vittime, il numero in assoluto più alto fra tutte le forze dell'ordine e fra tutte le forze armate. Speriamo dunque che quello che viene fatto dai più possa cancellare nella memoria quello che di male è stato fatto o sarà accertato sia stato fatto da chi non è degno di indossare questa divisa. Era in gita con il centro estivo il bambino di 12 anni, morto a Goriti.